Una scossa di terremoto con lieve e magnitudo si è verificata nel pomeriggio di ieri a Reggio Emilia con epicentro a Cadelbosco sopra. Sisma è stato registrato dagli strumenti dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Volcanologia, a una profondità di 7 km con magnitudo 2.5. L'epicentro è stato individuato infatti verso la zona di Villa Argine tra Cadelbosco, Bagnolo e Reggio Emilia.